La BCE ha autorizzato l'integrazione tra Banca 2021 e BCC di Buccino e dei Comuni Cilientani, un altro importante passo verso la nascita della nuova banca di credito cooperativo che si chiamerà Magna Grecia. Conterà 95.000 clienti, 12.500 soci e un totale attivo di quasi 2 miliardi di euro. La BCC che si intende costituire sarà operativa in tre regioni, Campania, Basilicata e Calabria e cinque province, Salerno, Avellino, Potenza, Matera e Cosenza. L'autorizzazione della Banca Centrale Europea, ha detto il presidente della BCC di Buccino, Lucio Alfieri, rafforza la nostra convinzione che il progetto è valido e che consentirà la crescita e lo sviluppo delle nostre comunità. Nelle prossime settimane, precisa, ci sarà il momento del confronto e in autunno, con il consenso dei soci, nascerà la nuova banca. Con questa operazione, aggiunge il presidente della BCC 2021, Pasquale Lucibello, miriamo a creare una realtà con maggiori livelli di efficacia ed efficienza. Adesso il nostro lavoro continuerà con intensità e con la ferma volontà di illustrare ai soci il complessivo piano di fusione. Al termine del piano di aggregazione, sottolinea Giuseppe Maino, presidente Gruppo BCC e Crea, la futura banca di credito sarà in grado di incrementare il servizio ai soci e clienti, mantenendo al contempo l'indispensabile presidio del territorio, grazie alle strette sinergie che già da tempo le due BCC hanno messo in campo.